Si intitola Fiammetta il nuovo lavoro scritto da Emanuela Abbadessa, un romanzo ambientato a fine ottocento con l'incontro tra Fiammetta, maestra dedita ai bambini e alla letteratura, e il poeta maledetto Valastro, una storia che condurrà i protagonisti in un vortice d'amore e di lettere piene di passione e desiderio. Il libro è stato presentato ieri nei locali della libreria Mondadori di Gela. L'ispirazione per Fiammetta mi è venuta dal ritrovamento di una lirica per canto e pianoforte al Museo Belliniano di Catania, il cui testo era di un personaggio poco noto, a me del tutto ignoto, era Giselda Foglianesi. Risalì alla storia di questa donna, che era legata a due grandi personalità catanesi, una più grande dell'altra, cioè a Giovanni Verga da una parte e dall'altra al poeta Mario Rapisardi, Questa storia, la storia di Giselda, mi è stata di ispirazione, ma soltanto di ispirazione per narrare ancora una volta una storia di passioni sbagliate e soprattutto una storia di rapporti di dominazione all'interno della coppia, che poi è il mio percorso narrativo. Lo era in Capo Scirocco e continua ad esserlo anche in Fiammetta. Ieri ha dialogato con l'autrice e la dirigente scolastico Sandra Scicolone. La lettura di questo romanzo è una lettura che si presta chiaramente all'indagine di quello che è l'animo femminile, in primis, e quelle che sono le dinamiche delle relazioni e dei rapporti di forza all'interno delle relazioni. Il tutto calato nel contesto storico, determinato, a cavallo tra due ambienti, ambienti antitetici direi, l'ambiente della Toscana e della Sicilia della fine dell'Ottocento, e attraverso questi ambienti antitetici si esplora poi anche quella che è la personalità di individui che vivono le contraddizioni e le caratteristiche dei loro luoghi e dei loro tempi. E quindi ne scaturisce un incontro quantomeno esaltante e anche pericoloso ad un certo punto tra due individui, un uomo e una donna, portatori di culture, portatori di atteggiamenti e portatori anche di un sentire, il femminile e il maschile, che tendono spesso a cozzarsi. Il tutto naturalmente raccontato con una scrittura estremamente colta.